Musica Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia, benvenuti a un nuovo video oggi ragazzi come avete visto dall'anteprima del nostro video appunto vi voglio parlare di due prodotti, non uno ma doppia recensione di due prodotti di casa Fishing Ferrari vi sto parlando di canne da surfcasting e vi sto parlando di canne in tre pezzi attenzione, campo minato per quanto mi riguarda questo perché vi ho sempre detto che è molto meglio una canna economica telescopica piuttosto che una canna economica a tre pezzi perché la tre pezzi deve in effetti avere delle caratteristiche che distinguono, che contraddistinguono anzi la canna appunto in tre pezzi funzionalità, lunghezza di lancio, potenza sia di lancio che di tiro ma attenzione alla sensibilità sulle cime bene, questo era un concetto che mi sono portato avanti per veramente molti molti anni ultimamente devo dire la verità che questo mondo delle canne in tre pezzi da surfcasting hanno delle caratteristiche veramente interessanti che quindi non le fanno sembrare soltanto canne da lancio tecnico ma le fanno sembrare anche abbastanza canne da pesca quindi attenzione c'è una sottila differenza ma poi la vediamo comunque alla fine di questo video quindi ora ragazzi, bando alle ciance due canne che sono la Imola 4,20m 230g e la Formula che è questa qua 4,20m 220g in questo caso vi dicevo canne in tre pezzi lunghezza 4,20m direi ideale per chi vuole iniziare a fare i primi passi nel mondo del surf ma soprattutto nel mondo legato anche un po' a quello che è la distanza di lancio il lancio tecnico beh, queste qua potrebbero anche andare bene perché hanno un ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo andiamo a vedere da vicino e ci vediamo dopo per le mie considerazioni e voto finale bene, partiamo come al solito dalla custodia di queste Fishing Ferrari come facciamo di solito custodia in materiale plastico devo dire molto economica però comunque con le tre fettuccine staccate perché far sì che quando si ripone la canna i pezzi non toccano insieme è una scritta stampata molto semplice vi faccio vedere quella della Formula perché quella dell'altra è praticamente uguale con delle caratteristiche diverse 4,20m per 220g massimo di azione l'altra 4,30m per 230g di azione vi sto parlando della Formula chiaramente la chiusura di questa è a strappo in cima con un velcro semplicissimo ma vediamo le cose che ci possono interessare partiamo dal manico della Imola la Imola è la, diciamo, canna che ha un diametro di fusto un pochino più sottile rispetto all'altra questa è una 25, questa è una 23 devo dire un manico piuttosto leggero per la categoria di canne che andiamo a trovare un tappo in fondo semplicissimo fisso una guaina in neoprene che fa sì che abbiamo il grip giusto per poter lanciare con una buona impugnatura cilindrica senza nessun tipo di lavorazione andiamo su qualche scritta che poi riportiamo anche in maniera diversa sparsa appunto sulla formula questa è la Imola che vi faccio vedere adesso quindi abbiamo la scritta Fishing Ferrari qualche caratteristica tecnica la prima caratteristica veramente interessante in questo target di canne è la placca e l'anello Fuji Concept quindi la serie diciamo medioeconomica di Fuji ma comunque una qualità sicuramente e indubbiamente importante come vedete sulla placca è riportata la scritta Fuji sulle due parti fisse chiaramente a questo punto inutile vedere l'alloggio del mulinello perché sappiamo già che è assolutamente un alloggio preciso senza problemi abbiamo la seconda informazione importante a mio vedere che è Hybrid Type quindi abbiamo un cimino riportato in questo caso ve lo faccio vedere poi sulla punta sul terzo pezzo e poi abbiamo Imola 4,20 m 230 g con qualche caratteristica rinforzo in duralluminio in questo caso sul primo innesto andiamo a vedere adesso il manico anche della formula così almeno non lasciamo nulla al caso vi faccio rivedere di nuovo velocemente cambia chiaramente il colore questo verde acceso rispetto a questo arancio acceso bello anche il colore diciamo che è molto racing troviamo la scritta Special Casting Design quindi come vedete le informazioni sono praticamente le medesime in questo caso abbiamo anche sul manico c'era anche sull'altra 4,20 m da chiuso 147 l'ingombro per 600 g di peso mentre invece l'altra 550 g di peso quindi cambia anche un po' il peso le caratteristiche tecniche qua sotto dove c'è scritto formula e poi come vi dicevo prima targhetta Fuji verniciata chiaramente al di sotto della verniciatura del manico formula 4,20 m 220 e anche qua abbiamo verso la parte finale Hybrid Type e poi abbiamo qua la nostra ghiera di rifinitura per l'elemento secondo ora vi faccio vedere velocemente il secondo elemento classico innesto diciamo interno un materiale che devo dire che lascia trasparire sicuramente l'economicità di questa canna ma devo dire che ho visto di molto peggio ha un costo almeno il doppio chiaramente la freccia di allineamento che troviamo sul manico e sul secondo pezzo per darci una mano ad allineare il tutto la cosa veramente importante secondo il mio punto di vista e dove ci possiamo soffermare un secondo è su questa chicca un Fuji concept originale marchiato appunto Fuji lo troviamo stampigliato da questa parte quindi un buon anello della serie media di Fuji ma un buon anello che viene montato serie K doppio ponte alto al contrario al contrario perché il filo quando arriva in questa posizione impatta direttamente sulla pietra se fosse stato montato normalmente come effettivamente questi anelli si montano quindi sul doppio ponte verso il manico avrebbe impattato in questo punto quindi questa qui è una cosa tecnica che molte aziende riportano e mi fa piacere che anche su questa gamma di prezzo venga riportato su questa Fishing Ferrari come vedete ve lo ripropongo l'anello doppio ponte K in questo modo montato diciamo al contrario perché tecnicamente al contrario invece poi lo troviamo montato diritto sia su questo elemento dove poi andiamo a trovare l'innesto fra il secondo e il terzo pezzo e di nuovo a questo punto vi faccio vedere anche la terza parte quindi la cima di questa canna dove abbiamo anche qua la linea di allineamento per poterla montare ma dove poi gli anelli a seguire sono montati sempre con questo Fujicon Cet doppio ponte K in questo modo quindi nel modo giusto e diretto vi faccio notare anche questa cima ibrida perché viene praticamente innestata fra una canna con un tubolar quindi questo è un tubolar si vede anche un po' la zingrinatura spero che l'immagine possa rendere in questo caso invece abbiamo una cima che è completamente solid in estate in questo punto dove viene riportata appunto la verniciatura verniciatura della cima bianca cosa classica su una canna da surf e abbiamo a questo punto una cima che pur essendo una cima che deve esprimere i 230 o 220 grammi risulta essere vi devo dire molto 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 gommosa cosa che mi piace assolutamente perché diciamo che il problema delle tre pezzi così da surf potenti fino a poco tempo fa lo erano anche di cima quindi erano veramente troppo potenti inutile poi andare a dilungarci facendovi vedere anche questa però mi voglio soffermare anche in questo caso perché questa è la parte più economica anche in questo caso sulla cima che ha la stessa identica azione praticamente sono due canne quasi uguali cambia vi ricordo come vi dicevo il diametro del manico e quindi anche leggermente il peso a questo punto andiamo alle mie considerazioni e voto finale prima di esprimermi nel mio voto finale qualche considerazione è doverosa all'inizio del video io vi ho detto sono sempre stato un po' dubbioso sulle canne da surf in tre pezzi tranne quelle di un certo livello in poi la cane in tre pezzi in realtà non è soltanto una moda nell'utilizzo ma deve essere secondo il mio punto di vista quindi chi è che utilizza una canna da surf casting in tre pezzi perché dovremmo decidere di prendere una canna telescopica da surf o una canna in tre pezzi la canna in tre pezzi da far suo è apparentemente più scomoda da trasportare apparentemente più scomoda da smontare è apparentemente più pesante è una canna che solitamente ha meno sensibilità di punta quindi perché, per quale ragione dovremmo andare a prendere una canna in tre pezzi andiamo a prendere una canna in tre pezzi quando abbiamo le due esigenze fondamentali che sono la distanza di lancio e la potenza nel tiro dell'eventuale pesce o dell'eventuale pescato non a caso nelle canne da surf in tre pezzi vige la potenza massima di lancio ma vige anche una potenza estrema nel tiro anche perché sono canne ed ecco perché sono canne che si possono utilizzare anche molto in queste serie per la pesca con il vivo fatta da terra quindi dove abbiamo bisogno di un'app molto importante quindi dove abbiamo bisogno di tirare di combattere pesci veramente importanti da terra quindi essendo limitati ad un punto fisso ad un punto fermo quindi queste sono le cose che devono secondo il mio punto di vista decidere farci decidere se comprare una canna in tre pezzi bene le canne in tre pezzi che c'erano un po' di anni fa erano delle canne in tre pezzi che lasciavano molto il tempo che trovavano a meno che uno non era disposto a spendere 250-300 euro da lì a salire allora avevano un'azione particolare diciamo che erano dei fusti di canne da surf che venivano interrotti alla bella e meglio devo dire la verità ma centralmente la canna non aveva quella funzione che dovrebbe avere una canna da surf per raggiungere grosse distante bene il tempo è passato le evoluzioni ci sono state i materiali sono cambiati i materiali che prima costavano tanto adesso costano molto meno perché ce ne sono di altri che costano molto lì allestimenti come abbiamo visto sarebbe stato impensabile soltanto che 5-6 anni fa avere una canna come queste due con l'anello Fuji la placca Fuji al prezzo ve lo dico subito di 60 euro questa e di 75 euro se non sbaglio scusate 75 euro questa arancio che è la Imola sarebbe stato impensabile bene devo dire che qua la Fishing Ferrari sicuramente da far suo ha fatto un investimento per rilanciare un po' il mondo del surf in tre pezzi perché ci sta proponendo anche delle canne da beach leggering in tre pezzi molto molto belle però devo dire che le canne belle le fanno anche loro perché ad esempio qua dietro alle mie spalle come vedete vi ho appoggiato e arriverà una recensione a breve la Varadero che è una canna che sfiora i 200 euro è un po' più sotto i 200 euro ma ha un calcio da 21 è molto leggera molto particolare anche come azione come tipologia di carbonio diciamo che però queste due come piace a me sono due canne entry level che però poi non sono da buttare via una volta usate due volte ma sono delle canne che si portano avanti anche una bella storia un'altra cosa che mi piace molto di queste canne è la sensibilità di punta dovete sapere che io sono sempre stato anche lì scettico perché la sensibilità di punta di una canna va data in base a quello che è il piombo di utilizzo bene molte 250 grammi in commercio sono veramente sorde cioè diventa quasi impossibile andarci a pescare perché quando noi quando noi non mettiamo i 200 grammi i 180 grammi per forza di piombo ma ne andiamo a mettere un pochino meno non risultano sensibili bene in questo caso come sulle canne telescopiche tanti anni fa è successo una cima riportata piena risulta avere una spiccata azione di punta e quindi in questo momento in questo punto la canna diciamo che ha un casting molto ampio posso arrivare ai 200 grammi anche se il top performance a vederla così ma non le ho provate ragazzi è di 180 grammi per poter sparare forte veramente forte in qualsiasi modo su queste canne quindi non arriviamo mai al limite ma vedendo questa cima mi piace pensare che anche con i 100 e i 110 grammi riusciamo a entrare in pesca quindi vedete che abbiamo veramente un'ampia gamma di utilizzo in pesca perché poi è questo che a noi interessa quindi in pesca una cosa particolare che mi è piaciuta meno potrebbe essere stata non mi sono soffermato troppo le legature sono due delle legature fatte su delle canne da 60 da 75 euro ma sono fatte molto bene l'anello buono mi piace la placca buona mi piace una cosa che mi piace un po' meno per me che sono circa 1,75 e io penso di essere un normo dotato normale quindi ho un braccio classico standard bene dovete sapere che da qua a qua quindi il centro il centro placca il centro gambo del mulinello abbiamo circa 78-80 cm un po' tanto per me perché diciamo per il mio braccio avrei preferito che ci fossero 5 cm meno però devo dire che per sfruttare al massimo la distanza di lancio una leva così è veramente interessante quindi mi piacerebbe un po' ritornare a fare qualche lancio dalla spiaggia per provare queste nuove canne e capirne un po' quelle che sono anche le azioni in lancio ma penso che per quello che costano se la portano a casa assolutamente tutta quanta quindi un voto di queste canne qua vi posso parlare bene per quello che le vedo vi posso parlare bene perché la gamma è fornita nel senso che mi piace anche che poi ci sia un top di gamma diciamo a parte per poi farvelo vedere e vedere effettivamente le differenze direi che queste canne nel loro insieme potrebbero prendere un 7,5 tranquillamente onesto si poteva fare qualcosa in più in alcuni punti sicuramente sì però comunque la canna sarebbe andata a costare molto di più si vede che sono canne fatte di serie cioè fatte in massa però dai devo dire che con questo prezzo ci compriamo veramente soltanto la serie degli anelli in un pacchettino quindi chi di voi la volesse usare appunto a surf per approcciare appunto a fare qualche lancio un po' più spinto attenzione a non far male a nessuno e per chi volesse affrontare una pesca con il vivo da terra anche importante sul tiro queste penso che possano essere le canne che potrebbero fare per voi chiaramente le trovate disponibili qua sotto il link in descrizione sul mio sito internet se volete andare a vedere e acquistarle potete cliccare andarci subito grazie per essere stati con noi continuate a seguirci sui nostri social iscrivetevi al canale attivate le notifiche se vi è piaciuto il video condividetelo e mettete un like grazie mille io la formula e la Imola vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi grazie a tutti